Siamo qui con Sandro Gozzi, neosutrisalitari con la presidenza del Consiglio e Vittorio Mughi della Stata. Quindi vedi che si fa un'initiativa per l'Unione Europea, per l'Unione Europea, per l'Unione Europea. Le note di iniziative del futuro per il vento è che possiamo parte solo attraverso l'organizzazione di noi, quindi è un'initiativa che parte con l'Unione Europea, perché parte spiegare, per le politiche in Europa oggi non sono ancora riuscite da qualche altro centro, ma non sono riuscite da qualche altro centro. È una buona iniziativa del progettivo, perché è l'Unione Europea, una politica economica e sociale vera europea, un uomo nuovo dell'Europa del mondo, le cose di cui abbiamo bisogno sono soprattutto l'Europa che tutti i cittadini si aspettano di trovare e che oggi non trova. E anche la vicenda di Ucraina, se non ricordi, è un po' troppo rapato. Quindi l'initiativa di Udipo e Euro vuole costruire quell'Europa che gli altri si aspetta. Magari dobbiamo anche ripensare che l'Europa è un po' troppo in passiva, più pratica, che si dimentica della strutturità e che ci può migliorare troppo la vita. Ci teneva una mano ad accogliere un milione di firme in tutta Europa? Quello che potrò fare, dal tutto avete già avuto la mia firma. E poi cercherò di rispondere l'initiativa con l'Europa. Grazie.